Buongiorno, sono Marisa Carosio, 40 anni, sono Technical Coordinator Project Execution per i progetti Oil & Gas della divisione Esplorazione e Produzione di Idrocarburi. Oggi mi occupo di valutare, analizzare e definire i progetti, le nuove iniziative che la divisione si trova ad analizzare, ad affrontare. Sono in Edison nel 1999, sono entrata nel Dipartimento dell'Ingegneria e lì ho cominciato in una funzione molto tecnica, quella dell'automazione e strumentazione, riuscendo poi a evolvere in un ruolo più di coordinamento tecnico e successivamente diventando Project Manager. Come Project Manager mi sono occupata di progetti riguardanti impianti di produzione di energia tramite fonte rinnovabile, quindi idroelettrico, fotovoltaico e eolico. Mi sono occupata anche di efficienza energetica. Da pochi mesi ho cambiato completamente l'ambito della mia professionalità e sono approdata al mondo degli idrocarburi. Sono laureata presso l'Università degli Studi di Pavia in Ingegneria Elettrica con indirizzo automazione industriale e poi sono entrata in Edison come neolaureata attraverso uno stage. Successivamente nel corso degli anni ho avuto l'opportunità di fare corsi di perfezionamento sia tecnico che gestionali e lo scorso anno ho avuto la possibilità di partecipare ad un corso di perfezionamento in Energy Business and Utilities organizzato proprio da Edison e dal Politecnico di Milano per far conoscere ai dipendenti Edison la complessità della realtà di Edison. L'attività nel nuovo Dipartimento degli Idrocarburi rappresenta per me una grande opportunità, un grande cambiamento rispetto al passato. Si tratta di un'area completamente nuova nella quale spero di avere la possibilità di crescere sia dal punto di vista della competenza professionale che dal punto di vista della managerialità. Cosa posso consigliare ad un neolaureato? Tanto impegno, dedizione, non avere paura di affrontare problematiche, tematiche non note e con costanza e dedizione il vostro lavoro potrà essere premiato.